Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo con la serie delle 7 signori miei Prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, il link è in descrizione Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, in descrizione trovate il link per poterle fare tramite Paypal Detto questo signori miei, partiamo con il video Ok ragazzi, allora, abbiamo tre mail, partiamo dalle mail, che sono di qualifica scontata, ok Mitchell, fantastica vittoria, ottimo lavoro, e l'inse, grazie a avermi concesso, apprezzo il tuo impegno, ok, va bene Sono tutti contenti, l'importante è questo, facciamo gli allenamenti, io ancora non ho sistemato, basta Facciamo, alleniamo un po' con gli esterni, raga, ah, li alleniamo un po' casa dei Difficile, controllo palla, agilità e dribbling, poi qui mettiamo l'altro esterno, facciamo allenare un po' con Nicholson Anche lui difficile, lavora lì anche se è una base, era mai Nicholson E qui andiamo a mettere invece i terzini, andiamo a mettere il piccolo drollo Difficile, perfetto E poi andiamo a mettere altro terzino che deve crescere, abbiamo detto che è Nichol, Insel, Raja, Nichol E anche lui lavora lì, e poi l'ultimo posto che ci mettiamo un attaccante, ci mettiamo, ci mettiamo, ci mettiamo Naga Naga, dai, così migliore anche Naga, lavoriamo su loro, dai Il piccolo drollo sale a 64, bravo piccolo drollo, bravo piccolo drollo, allora Ci siamo, ci siamo, ci siamo, andiamo avanti, andiamo avanti Siamo messi benissimo in classifica, raga, io spero che questa magia che c'è per ora attorno ai gamberetti non si distrugga di botto Però siamo messi abbastanza bene, siamo messi abbastanza bene Abbiamo la prossima partita contro, non riconosco il simbolo E l'Hackrington, ok Sullivan vuole giocare, ok, gli daremo un turno di... lo faremo giocare questa partita a Sullivan Ci penserò, così non si lamenta nessuno, raga, ce li teniamo tutti buoni Anche perché Casadei è stanco, quindi, allora, fuori Naga Dentro, dentro Dentro? Ah, Claudio è rotto, porca miseria, non mi ricordo che Claudio fosse rotto Allora, Naga e Samoris devono giocare Casadei fuori per... ok Ampadu, Raid, Casadei, Lincei, vabbè, va bene così Raid, però Mariene lo spostiamo di qua Nicholson è pure stanco, quindi direi di mettere esposito Mitchell, possono fargli fare un turno di reposo per Lincei Hamilton è distrutto, gioca a Harwood Il piccolo drollo, facciamo giocare Raja che è carico E io qua, al posto di Naga, signori miei, metterei sto con Perdiamo un bel po' come attaccante, però, quantomeno abbiamo un attaccante fresco Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono Andiamo a simulare la partita Contro l'Accrington, ragazzoli Loro vengono da una vittoria contro il Colchester Siamo fuori casa, noi che ce famo? Ai 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 2-1, bello così, gol di Morris e Stockholm Grande, Stockholm mi dà fiducia Erano andati sotto, raga, erano andati sotto 1-0, gol di Pickchard e poi l'abbiamo ribaltata con Morris e Stockholm Perfetto, sono usciti proprio Morris a rete per Nicholson e Naga Ok, bella così, bella così Vediamo se abbiamo qualche giorno per poter recuperare Grazie per tutte le presenze Ok, ah c'è la Coppa di... c'è l'FA Cup ora, raga C'è l'FA Cup, ok Grazie per tutte le presenze, apprezzo il tuo impegno Non ti preoccupare Mitchell Andiamo alla partita di FA Cup Speriamo che i miei migliori riescano a recuperare un poco, raga E' tornato l'osservatore dall'Argentina Che non mi ha portato un giocatore buono in 9 mesi Rifiuta, rifiuta, perfetto Villalba, oh, quantomeno forse uno Daniel Villalba, 16 anni, 70, 94 Questo è in gaggio Ora poi vediamo dove mandarlo questo osservatore, raga Voglio concentrarmi sulla partita di FA Cup E poi mandarlo assieme all'altro osservatore Così, aggiornamento mensile di Nichi, è arrivato il 4 Perfetto, lo volevo mandare proprio il giorno 4 E non ci siamo riusciti Mitchell sta attraversando un buon momento Allora, vediamo l'altro osservatore chi ci ha portato Hamed Dongbo No Poi abbiamo Kossi Konare No, manco tu sei buono Amidu Abba Amidu Abba è tanta roba Porta, porta a casa E Kiku Daganah, 69, 94 Non mi spiega tantissimo Seguiamolo più da vicino E poi, se non sbaglio, è Mitchell che vuole giocare No? Sì, Mitchell vuole giocare Va bene, va bene Allora, FA Cup, signori miei Signori miei, giochiamoci la partita di FA Cup Allora, fuori Stockholm dentro Naga è ancora più stanco Ma porca miseria Si lamenterà Ora voi vedrete che si lamenterà Fuori Mariani dentro Ponsa che ha riposato Fuori Sposito dentro Nicholson Va bene Fuori Linzee dentro Mitchell Salazar Alvaro Li confermiamo Fuori Raja E dentro il piccolo drollo E va bene così Voi vedete che Naga si lamenterà Ora Qualcuno si lamenterà Sicuro a fine partita Sicuro Sicuro Partita di FA Cup Contro Walsall Riuscissima a vincere pure questa Sarebbe tanta roba Tanta roba Signori miei Tanta roba Riuscissima a vincere Che c'è famo? Ci vinciamo Bella così 2 a 1 Gol di Morris E Mariani E' uscito il piccolo drollo Per Hamilton Passiamo il turno Nel FA Cup Raga Bella così Abbiamo una squadra Che sta crescendo pesantemente Sta crescendo pure molto bene Bella così Bella così Andiamo a fare Nel momento degli allenamenti Alleniamo Quelli dell'altra volta Così li facciamo Crescere pure un poco a loro Dai Per chi gli esterni In questi giorni Non li ho completamente Allenati Quindi facciamo crescere Loro E va bene così Bella così Raga Continuiamo a essere Terzi in campionato Mitchell è contento Perché l'abbiamo fatto giocare Sono contento Che tu sei contento E che siamo tutti quanti contenti Prestazione A torevole E va bene così E andiamo avanti Con il calendario A 22 giornate Dopo 22 giornate Siamo terzi A 48 punti Signori miei Tantissima roba Tantissima roba Il sesto posto E a 40 Quindi comunque Abbiamo 8 punti di vantaggio Sul sesto posto Allora dopo Andiamo a fine video Andiamo a vedere Raga Se A fine video Andiamo a vedere Raga Se E fino al sesto posto E playoff O fino al settimo Che sinceramente Non mi ricordo Abbiamo la casa Da partita Contro il Flagboard Può essere Allora Allora Fuori Stoccon Dentro Naga Fuori No Casa Del rimane Mariani Amponsa Fuori Mariani Che si è giocato un po' Tutte Dentro Raid Lo spostiamo di qua Nicholson Va bene Mitchell Salazar Harwood Drollo Va bene L'unica cosa Facciamo Leviamo Salazar E mettiamo Hamilton Che è stanco No Quindi non mettiamo Nessuno Va bene così Raga Scendiamo in campo Scendiamo in campo Dai Dai Contro il Flatwood Contro il Flatwood Che sicuramente Sotto di noi Viene da un pareggio Contro i Grinsley Town Che ci facciamo Noi Ci perdiamo Mannaggia Della pupazza Ambriaca Il miracolo è finito Raga La magia è finita In gol di Morris E' uscito il raid Per Rosalivan Ammoniti Salazar E Amponsa Abbiamo perso 2 a 1 Ragazzi Porca miseria La magia attorno ai gamberetti E' finita E' finita E' finita E va bene Dai ci stava Ci stava Stavamo giocando bene Fino Abbiamo fatto Tante robe Raga Fino a questo momento Quindi Ci sta Ci sta Taglie così Taglie così Siamo comunque Quarti a 48 punti Dai Non ci possiamo lamentare Non ci possiamo lamentare Siamo quarti a 48 Punti Dico E' un ottimo risultato Fino a questo momento Andiamo avanti Col calendario Ok Ci giochiamo Penso L'ultima partita Del video Contro Premio torneo Oh che cosa carina Ci hanno dato un premio Ogni tanto Si ricordano Di darci qualche cosa Meno male Meno male Meno male Attenzione Allora Partita contro Il play move Play move Che cos'è la mail Rischio di perdere Un giocatore Raja Raja Vabbè Raja Vabbè Poi li vediamo Il rinnovamento Il rinnovo Dei contratti Raga Niente da dire Niente da dire Confermiamo gli undici Che hanno perso Ma gli diamo Comunque fiducia Contro il play move Contro il play move Loro vengono Dando la vittoria Contro il gillingham Noi che ci famo 2 a 1 Doppietta di Nicholson Bella così Riprendiamo il passo Riprendiamo il passo Ci rimettiamo in carreggiata Ci rimettiamo in carreggiata Ci rimettiamo in carreggiata Bella così Bella così 2 a 1 Importante 2 a 1 Importante Che ci fa A tornare a casa Lince si lamenta Va bene Lince Vedremo di fare qualcosa per te 51 punti Siamo a un punto Dall'all city Che è terzo E a 2 punti Dal Charlton Che è secondo Ok Va bene Andiamoci a fare Questi ultimi allenamenti Che Drollo sale a 65 E Naga sale a 70 Bella così Bella così Va bene Va bene Ragazzoli Va bene così Va bene così Abbiamo la prossima partita Che è il 23 Lince si lamenta Che deve sempre lamentarsi Ormai è diventato Un lamentoso E il suo posto di squadra Non è a rischio Va bene La prossima partita Faremo giocare a lui Detto questo ragazzoli Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao